eccoci qui arrivati alla 25esima domenica del tempo ordinario beh questo è un vangelo un po sembra andare un po in una maniera oltre la logica umana infatti anch'io sono un po in difficoltà a raccontarlo però per quello che mi è dato di capire nella mia semplicità nella mia umiltà è che luca racconta una parabola che c'era un padrone che aveva un amministratore il quale era delegato appunto ad amministrare i beni del suo padrone succede però che questo amministratore un po furbetto ma direi proprio furbo che cosa fa approfitta del ruolo che gli è stato delegato e piano piano un po alla volta tende anzi ruba al suo padrone il padrone comincia ad accorgere che c'è qualcosa che non va fino a scoprire e a smascherare il malfattore ovvero il suo amministratore e allora l'amministratore cosa fa io sarei morta dalla vergogna l'amministratore cosa fa dice bene sicuramente adesso perderò questo incarico e e comincio a pensare come poter insomma risolvere questa situazione io penso non c'è da di saperlo ma penso che secondo me lui nella sua furbizia ma limitata fino a un certo punto non ha rubato per accumulare questi bene perché altrimenti non si spiega che nel vangelo poi c'è scritto sappiamo che nel vangelo lui dice a un certo punto dice adesso che mi sarà tolta questa possibilità di amministrare cosa faccio a giappare la terra beh non se ne parla nemmeno perché magari come sto messo fisicamente oppure non ce la faccio mentre invece a rimosinare ancora peggio perché mi vergogno quindi questo fa supporre che lui non è stato neanche diciamo intelligente da mettersi da parte di gruzzoletto perché gli consentiva poi di andare avanti allora pensa un attimo come potrebbe insomma aggiustare un vostro situazione cosa fa gli viene in mente e scogita un piano ecco perché verrà chiamato che è un malfattore però che agisce poi come benefattore perché con scaltrezza che cosa fa convoca tutti quelle persone debitori del suo padrone e prende carte e penne io immagino lì che si siede con un tavolo carte e penne comincia a fare tutto quanto devi al mio padrone e gli risponde io sento barili a bene ti farò una ricevuta dove scriverai che anziché 100 io te la porto a 50 tu invece e io 60 bene allora la ricevuta ti sarà di 40 e così via allora che cosa succede che il padrone attenzione c'è scritto del vangelo che loda addirittura loda il suo amministratore perché con la sua furbizia cioè usa la sua furbizia tra parentesi per fare del bene al prossimo mentre invece prima la usava per un tornaconto solo ed esclusivamente personale cioè rubava per se stesso adesso si ruba però lo usa per rendere meno pesante i debiti dei suoi dei debitori verso il suo padrone e succede che lui lo loda per questo perché da malfattore ecco appunto diventa benefattore perché ci fa capire che dio va è capace di andare innanzitutto al di là dei pensieri dell'uomo perché chiunque l'avrebbe preso magari a calci nel sedere a schiaffi l'avrebbe sbattuto fuori ma lui invece lo loda perché da una situazione catastrofica dai tutti i problemi che aveva procurato da quello che aveva rubato cerca invece di piangersi addosso cerca di da di tirarsi su le maniche dire fammi vedere come cosa posso fare e capovolge la scena facendo tra virgolette del bene a questi poveri disgraziati che dovevano dare tantissimi soldi e lui scala la cifra di questi soldi addebitandoseli lui e quindi ecco dio guarda proprio questo guarda che guarda la gioia soprattutto nel volto di queste persone debitrici che si sollevano e quindi sparge non volendo questo amministratore sparge del bene attorno a lui questo 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 sorriso questa gioia che spruizza da tutti i pori di queste di queste persone che non passa inosservato a gesù che appunto lo loda questo ci fa capire che poi dice anche si fa dei buoni amici perché poi effettivamente è normale io che è un debito grandissimo che ne so di 10 mila euro e mi viene riportata a 3 mila euro è normale che io poi dopo divento amico di questa persona e ecco gesù ecco dio che attraverso questa parabola ci fa capire di l'importanza dell'amicizia di fare del bene anche a volte attraverso il male a tal proposito io tempo fa io ho fatto tanti ritiri spirituali nella mia vita e volevo ricordare una cosa anzi la volevo condividere con voi una cosa che io non sapevo assolutamente che che esisteva a volte magari non se ne parla però ecco voglio cogliere questa occasione per parlare con voi sono venuta a conoscenza già da moltissimo tempo che attraverso il profeta malachia se andiamo a vedere nel capitolo 3 nel versetto ora non mi ricordo che va da 3 a 12 insomma lì gesù parla della decima che cos'è la decima spiega in quel versetto del capitolo che a partire dal fatto che ogni cosa appartiene a dio anche chi ha la fortuna di lavorare con un buon lavoro di ecco di rivestire un ruolo in questa società lavorativa deve tenere sempre presente che la decima parte del guadagno che ne deriva dal lavoro un lavoro sempre per per volontà di dio che ci consente di lavorare la decima parte noi la dobbiamo investire la dobbiamo da appartiene a dio c'è scritto che appartiene a dio quindi dobbiamo usarla per fare del bene che sia nelle chi nella chiesa la chiesa non sono le quattro mure voglio ricordare la chiesa siamo ognuno di noi quindi se c'è la possibilità che magari ci sono delle persone povere che sono nel bisogno che non hanno come arrivare a fine mese che non hanno la le bollette i soldi per pagare le bollette scusate insomma che vivono una difficoltà economica quindi gesù ci dice che la decima parte del nostro stipendio ogni mese la dobbiamo dare in beneficenza a coloro che ne necessita io non lo sapevo penso che anche qualcuno di voi che mi ascoltano lo sa però adesso non abbiamo più giustificazione perché sappiamo tutti che dobbiamo in qualche modo impegnarci che la decima parte di quello che guadagniamo dobbiamo darla a coloro che sono nel bisogno questo non lo dice monica capasso ma lo troverete scritto nel profeta malachia capitolo 3 versetto 3 12 quindi sappiamo che la bibbia è parola di dio il libro ispirato da dio e quindi prendiamo per buono che dio oggi ci dice e vuole e desidera da noi che ci preoccupiamo soprattutto per il nostro prossimo io vi saluto vi lascio una buona domenica vostra monica vi voglio bene